E' uno dei semafori più importanti dell'intero comprensorio di Marsala, quello all'incrocio tra Strasatti, la strada che porta a Petrosino. Da alcune settimane non funziona, generando problemi soprattutto quando il traffico si fa molto intenso. Questo incrocio è stato teatro di incidenti anche gravi durante tutto l'arco degli ultimi anni. Non solo il semaforo non funziona, ma è anche pericolante come vediamo dalle nostre immagini. Costituisce quindi un serio pericolo anche per i pedoni, perché potrebbe crollare da un momento all'altro. Sarebbe il caso di intervenire in maniera definitiva, dato che tante volte il semaforo è rimasto guasto, è stato aggiustato, ma poi subito dopo è tornato a non funzionare.